Ma in questo momento noi abbiamo 600 milioni come cifra di risorse che a varie fasi o sulla base di progetti che devono naturalmente essere completati e poi avviati o di progetti esecutivi che sono stati approvati e manca solo la definizione della gara o di lavori in corso in questo momento stiamo attivando attraverso la nostra direzione di difesa del suolo diretta da Giovanni Massini che sta lavorando molto bene e certo sull'Arno abbiamo visto quanto interventi quali la diga di Birancino, quali l'invaso di rofia nel comune di Saminiato lo scolmatore che da Pontedera a Cascina porta verso l'Arno in una direzione diversa da quella di Bocca d'Arno siano serviti, l'ultimo caso è l'alluvione che sarebbe sicuramente arrivata a Pisa senza questi interventi nel 2019 si arrivò con l'acqua dell'Arno a 80 cm dalla chiusura dell'arcata del ponte di mezzo a Pisa ma noi in questo momento stiamo sull'asta del principale piume della Toscana lavorando con il progetto esecutivo che dovrebbe poi partire per l'esecuzione nell'arco di un anno, un anno e mezzo per quello che è l'innalzamento della diga di Levano stiamo procedendo nelle dimensioni di Pizzicone 1 e Pizzicone 2 su Figline-Valdanno per quelle due casse di espansione a cui poi se ne aggiungeranno altre complessivamente ci troveremo ad avere una bella capacità di anteporre l'Arno al passaggio sotto il Ponte Vecchio che sappiamo non può essere oltre i 3.000-3.200 metri cubi d'acqua al secondo sull'Arno in questo momento sono in corso i vari cantieri tenete presente che in questo momento in Toscana sono stati finanziati realizzati o in progettazione quindi di prossima realizzazione circa 600 milioni di interventi quindi una cifra assolutamente importante nei prossimi giorni, nei prossimi mesi meglio riusciremo con risorse che lo Stato e la Regione ha già stanziato ad attivare ulteriore 100 milioni di interventi ma nell'Arno questi interventi almeno più importanti sono già in corso cito alcuni, cito la cassa di espansione di Figline che vi ricordo essere quattro casse di cui in questo momento sono attivi tre cantieri delle quattro casse un quarto cantiere sarà prossimo alla via entro la fine dell'anno nella cosiddetta cassa di Restone che è la zona che collega San Giovanni a Figline in sinistra idraulica dell'Arno questi sono interventi già partiti in alcuni casi conclusi che sono una prima significativa risorsa per gestire le piene a monte dell'abitato di Firenze ma anche in tutta la tratta dell'area fiorentina poi c'è il progetto di Levane della diga di Levane che dopo un lungo percorso molto faticoso ha ottenuto tutti i pareri necessari dal Ministero delle Infrastrutture e ora siamo nell'ultimo step che è quello della procedura di valutazione di impatto ambientale grazie a tutti